Su e giù il muso avanti e poi costretto a rincorrere fino alla gioia, quasi allo scadere, del definitivo 3-2 di Moruzzi. Tre punti pesanti perché Torres e Cesena corrono che è un piacere e guai a perdere terreno. Confermate le previsioni della vigilia che volevano Moruzzi preferito a Milani sulla corsia mancina di difesa, con a cornero Ala sulla stessa fascia e De Marco mezzala. Braglia dispone il suo gubbio con un assetto spregiudicato solo sulla carta, 4-2-3-1, con l'Abruzzese Di Massimo e l'ex Bulevardi nel trio di trequartisti a sostegno della punta Montevago. Il pallino ce l'ha da subito il Pescara che arriva all'avvantaggio poco prima della mezz'ora quando Tunjov sfrutta un pallone vagante per scagliare un sinistro a file di palo dove Vettorelle non arriva. E ci sarebbero anche le condizioni per affondare il colpo, come nell'occasione di Merola, prima però di abbassare la guardia. Il gubbio è squadra di buon livello e ne approfitta dalla panchina Braglia, pesca per il secondo tempo il virgulto Udo, bravo nello sfruttare la dormita di Mesic e Brosco nell'applicare il fuorigioco per ritrovarsi a tu per tu complizari e superarlo. Zeman cambia tutto l'attacco ma è ancora nelle retrovie che il suo Pescara deve registrarsi. Altra giocata veloce degli Eugubini, altra dormita di Brosco e per di massimo è fin troppo semplice timbrare l'uno a due. Ma lo stesso Pescara dai ritmi bassi ha la capacità di rialzarsi e di riprendersi la scena. Subito il pari, con un terra-aria di squizzato all'incrocio dei pali. I quasi 6.000 dell'Adriatico alzano i decibel e spingono i biancazzurri nel quarto d'ora che manca. Allo scadere il premio al forcing portato è la rete di Moruzzi. 3 a 2 per salire a quota 13, per rimanere in scia delle battistrada e per affrontare al meglio un ottobre pieno zeppo di impegni.